Bella a tutti, belli e brutti, io sono Umberto Valumbo e siamo qui per fare il video della top 10 dei migliori trequartisti della serie A 2020-21, girone andata. Allora, se voi vi siete incazzati che nel centrocampisti ci fossero i vari Mkhitaryan, i vari Luis Alberto, i vari Ciaranoglu, state tranquilli che ci sono qui. Perché, allora, sinceramente ho voluto, per nominare altri tipi di giocatori che mi piacevano molto, ho deciso di fare questo video. Cioè, proprio per dividere i centrocampisti dei trequartisti in modo proprio netto, in modo da farvi parlare anche di altri giocatori un po' meno importanti che giocano in squadra meno importanti. Comunque, direi di passare alla classifica e partirei dalla decima posizione, qui troviamo Pessina. Pessina dell'Atalanta. Allora, dei trequartisti dell'Atalanta ho scelto Pessina. Avrei potuto inserire Maninowski, avrei potuto inserire Ilicic. Però, per continuità di rendimento, l'unico che praticamente le ha giocate tutte o da mezzala o da trequartista è stato Pessina. Che, dal Verona, ritornato un po' insordina, si è conquistato la titolarità. Può giocare dappertutto, sia mezzala sia trequartista. E con Gasperini si è esaltato totalmente. Sta facendo un ottimo campionato fino ad adesso. Ho scelto lui invece che gli altri proprio per questa continuità di rendimento. Perché ogni partita la gioca sempre bene, la gioca sempre con molta energia. È un ottimo prospetto e sicuramente l'Atalanta crescerà. Deve ancora crescere, ma vediamo come continua questa stagione. Credo che alla fine, comunque, la titolarità ci sarà. Anche se l'Atalanta, lì, sulla trequarti potrà alternare tantissimi giocatori. C'è anche Mirancuk, c'è anche, appunto, Maninowski. Quindi è da vedere cosa succederà. Perché per adesso sono i titolari Ilicic e Pessina. Comunque, passiamo alla nona posizione. E qui troviamo Junior Messias del Crotone. Allora, ho voluto includere Junior Messias perché io credo che di questo Crotone, ultimo in classifica, sia l'unico uomo. Infatti, nelle top che vedrete, c'è almeno un uomo di tutte le squadre. Ho scelto Junior Messias per il Crotone perché è l'unico che porta qualità a questa squadra. Oltre ad essere, se non mi sbaglio, il miglior marcatore, comunque, vicino a Sini, diciamo. Sono solo loro che segnano il Crotone. Diciamo che lui, però, è l'uomo fondamentale. Cioè, ha quella qualità, quella velocità, quel dribbling, quell'accelerazione di passo che è incredibile. Poi, per un uomo che ha giocato a 30 anni per la prima volta in Serie A, con questa tecnica, questo senso proprio brasiliano, che lo contraddistingue. Cioè, secondo me è un giocatore di una grande squadra, per quello che ho visto. Perché ha queste qualità e ogni azione da gol del Cagliari, cioè, scusate, il Crotone, c'è sempre. Anche se non direttamente, ma c'è sempre. Forse indirettamente, ma c'è sempre. Comunque, è lui che mette il cross, è lui che fa quella giocata importante che ti fa segnare. Giuliano Messias è un giocatore veramente forte. Ora vedremo cosa succederà. Io, se fossi in qualsiasi squadra di metà classifica, che ne so, la Sampdoria, il Genoa, proverei a prenderlo, perché può garantirti grandi soddisfazioni, secondo me. Anche se ha 30 anni, per qualche stagione, te le può garantire, ti può garantire sempre la salvezza sicura. Perché è un giocatore veramente ottimo. Passiamo alla ottava posizione, qui troviamo Soriano del Bologna. Allora, Soriano è stato quest'anno veramente, veramente importante. Di un Bologna che sicuramente è stato una delle squadre più neutre di tutta la Serie A, insieme all'Udinese. Che non è andato mai in quella zona di retrocessione pesantemente. E allo stesso tempo non è mai stato un granché, perdendo delle partite anche stupidamente. Però di questo Bologna il migliore è stato sicuramente Soriano. Che porta qualità, porta innovazione, porta idee a queste tre quarti del Bologna. Che diciamo che non è proprio spoglia di giocatori forti. C'è anche Orsolini, per esempio c'è anche Barro. Quindi io direi che lì sugli esterni, sulla tre quarti, sono messi bene. Però l'uomo che spicca di più è sicuramente Soriano. Grazie ai suoi assist, grazie ai suoi gol, è sempre decisivo. Sicuramente un giocatore così è fondamentale tenerselo. Perché sta veramente rendendo bene. Soprattutto questa stagione è meglio di tutte le altre. Anche se non è mai stato insufficiente, veramente. Passiamo alla settima posizione. E qui parliamo di Aaron Ramsey della Juventus. Allora, l'anno scorso non è stato per niente decisivo, per niente sfruttato bene. Diciamo che la Juve sicuramente non aveva fatto fino a quel momento un grande acquisto. Anche se è a parametro zero. Però con un anno di distanza si è rivelato un giocatore veramente fondamentale. Allora, anche se non è che faccia tutte queste cose, si è veramente rivelato molto utile. Anche grazie al cambio di modulo di Andrea Pirlo, che ha richiesto questo trequartista. Anche se Pirlo cambia modulo praticamente a tutte le partite. Però quando gioca con trequartista è l'unico ruolo per esaltare questo modulo. L'unico giocatore era Aaron Ramsey. Perché è l'unico che veramente sa fare quel ruolo là. All'Arsenal l'abbiamo conosciuto dietro le punte, dietro la casetta Obemayango, chi che sia, davanti a lui. E lui era proprio il centrocampista di inserimento, il centrocampista che tagliava la difesa. Segnando anche qualche gol. E Ramsey è veramente partito bene quest'anno. Sta giocando molto. Ed è titolare comunque. Anche se la Juve può far ruotare i giocatori moltissimo. Però Ramsey si sta garantendo un posto da titolare. E poi le sue qualità le conosciamo. Grande tecnica, grande senso di inserimento. E anche un cagnaccio in mezzo al campo. Ramsey veramente ottimo, ottimo, ottimo anno fino ad adesso. Sesta posizione. Zaccagni del Verona. Allora questo Verona che sta volando, che sta facendo ottime prestazioni. Che ha vinto con il Napoli 3 a 1. E soprattutto a merito di un giocatore in particolare. Ovvero Zaccagni. Che sta rendendo paurosamente. Cioè questo Zaccagni sta veramente rendendo in una maniera temibile. In un modo pazzesco. Cioè tutte le grandi squadre devono ambire a comprare questi tipi di giocatore. Perché un giocatore così, con questa fantasia. Con queste caratteristiche. Piene. Perché ha tutto, eh. Ha tutto. Fisicità. Corsa. Questa tecnica. Cioè il gol in rovesciata. Con. Credo con l'Udinese. Non vorrei dire una cazzata. Però comunque. Il quel gol in rovesciata. Quel gol in rovesciata. Veramente. Fa vedere tutte le sue qualità tecniche. Oltre abbinate con la grande fisicità. Perché lì in mezzo al campo. Regna. Regna. Zaccagni. Veramente un ottimo giocatore. E si merita questo salto di qualità. Sì. Certamente. Io se fossi nella Roma. Lo proverei a prendere. Magari. Sostituendo. Sostituendo. Un partente. Carles Perez. Per esempio. E quindi. Zaccagni. Veramente. Ottimo giocatore. E sicuramente farà. Farà bene. Anche in una prossima squadra. Grande. Per esempio. Il Napoli. È veramente molto vicino al suo acquisto. Comunque. Passiamo. Alla quinta posizione. Qui troviamo. Zilinski. Del Napoli. Allora. Dei centrocampisti del Napoli. E appunto. Lui è l'unico trequartista. Vero. Perché altrimenti. Devono adattare Politano. Lì. Anche se Politano è più da esterno. Grazie alla sua velocità. Grazie al fatto che punta spesso l'uomo. Grazie al fatto che rientra. Proprio questo fatto di rientrare sul mancino. Che illude difensore. Non è proprio adatto a fare il trequartista. Però Zilinski. Che è veramente l'unico vero trequartista del Napoli. Giocatore che si inserisce. Che balla. Che attacca la difesa. Che morde. Che segna molti gol pesanti. Che proprio mette in difficoltà la difesa. Con questa sua velocità. Con questa sua fisicità. E quest'anno veramente è stata la miglior stagione. Fino a questo momento con il Napoli. Ha dimostrato di essere veramente qualitativamente più forte di molti altri. Di molti altri in Serie A. Superandoli quasi tutti. Cioè Zilinski è veramente un giocatore veramente forte. Che farebbe le fortune di qualsiasi squadra in Serie A. Secondo me il suo acquisto dal Napoli. Quando arrivò dall'Empoli. Adesso sta rendendo veramente bene. Cioè adesso è un grande acquisto. Si può dire un grande acquisto. Per quello che sta facendo vedere. Assolutamente se lo merita questa posizione. Perché è veramente importante. Quello che fa con bellissimi. I gol pesanti. Quindi passiamo alla quarta posizione. E qui troviamo Rodrigo De Paul dell'Udinese. Allora. Cosa non dire di Rodrigo De Paul. Che è l'unico giocatore forte di questo. Veramente decisivo di questo Udinese. Che si regge grazie soltanto al numero 10. Al capitano. A Rodrigo De Paul. Si. Lo dobbiamo dire. Perché tutto il gioco. Tutto quello che fa l'Udinese in campo. Lo fa grazie a De Paul. Che è l'uomo più pericoloso ogni volta. Un uomo temibile. E' un giocatore da top club. E' un giocatore fisico. Con una tecnica pazzesca. Con una visione incredibile. Che può fare mediano. Mezzale e trequartista. Tutto insieme. Può fare anche l'esterno. Sì. De Paul è veramente un giocatore totale. Questo Udinese è veramente sprecato. Anche se lui vuole rimanere. Comunque. Capitano. E' numero 10. Se vuole diventare una bandiera. Va benissimo. Anzi. Però merita una grande squadra. Lui è un giocatore che veramente merita il salto di qualità. Veramente è un giocatore totale. Totale. In mezzo a quel campo. Passiamo alla terza posizione. E qui troviamo Luisa Alberto. Della Lazio. Dopo la doppietta nel derby. Veramente mi sto mangiando le mani ancora. Però Luisa Alberto è veramente un giocatore pazzesco. Lo sta dimostrando ogni giorno che passa. Ogni partita in più. L'anno scorso è stato il re degli assist. Quest'anno invece si è trasformato in goleador. 6 gol e 0 assist. 6 gol. Che non sono pochi. Perché a fine stagione puoi andare in doppia cifra. E tanta roba. Quest'anno è stato proprio più davanti la porta. Anche secondo me. Per il fatto che. Giocando con una punta più fisica come Caicedo. Che è diventato titolare di scapito di Correa. Si è aperto proprio un varco lì. E lì Luisa Alberto spinge. Fa tanti gol. Invece con Correa. Era proprio lo stesso Correa. Che si doveva inserire per segnare. Invece in questo modo. Luisa Alberto trova sempre più il gol. Secondo me Luisa Alberto. È un giocatore veramente forte. Tecnicamente molto. Veramente molto. Veramente molto forte. Con una qualità. Nel passaggio pazzesca. Proprio nel cercare compagno. E sicuramente si mette a questo posto. Anche se non è a livello dell'anno scorso. La stagione. Anche vedendo anche la classifica della Lazio rispetto all'anno scorso. Però si merita assolutamente questa terza posizione. Passiamo alla seconda posizione. Qui troviamo. A Cancia Lanoglu. Del Milan. Che non dire di A Cancia Lanoglu. Allora la prima cosa da dire è sicuramente che. Il Milan. È uno degli uomini più decisivi di questo Milan. Il numero 10. Quello che fa girare la squadra. Che lancia i giocatori. Che trova sempre il passaggio. Che quest'anno è diventato anche energico. Lì in mezzo al campo. Con la voglia. Con la grinta. Sempre più trascinato in questo gruppo Milan. Che è caratterizzato anche da lui. E dal suo modo di intendere calcio. Che va. Veramente va. A livelli stratosferici. Io devo dire che. A Cancia Lanoglu. Non era partito molto bene. Ce lo ricordiamo. Con l'esperienza al Milan. Però pian piano si è preso quella titolarità. Quella fama. Di giocatore perfetto. A livello di gioco. Cioè. A livello di gioco. Di idea. Lui ce ne sono pochi in seria come lui. Veramente ce ne sono pochi. Con la sua intelligenza. Con il suo vedere il compagno. Con il suo servirlo. Con quella tecnica. E poi quel tiro. Quel tiro decisivo. Che ogni tanto ti sblocca le partite. Perché. C'ha Lanoglu. Con quel tiro. Con quel tiro tagliato. Con quel tiro preciso. Ogni tanto ti risolve le partite bloccate. Però. La prima posizione. Vedendo anche i numeri. Con. 9 gol. E 8 assist. In questa stagione. Eric. Mkhitaryan. Della Roma. Che cosa non dire. Di Enrico Mkhitaryan. Enrico. Che è veramente un giocatore. Totale. Totale. Fa tutto. Fa tutto. Gol. E un goleador. Fa gli assi. Cioè fa tutto. All'interno della Roma. E' uno dei giocatori più decisivi. Di tutti. Punta l'uomo. Lo supera. Mette quel passaggio perfetto. E' sempre decisivo. Cioè. Ogni azione da gol. E' merito suo. Anche. E' un. Più o meno lo stesso discorso. Che facciamo. Per Cialanoglu. Per Luis Alberto. Per De Paul. Per Zaccagni. Ok. Che sono decisivi. All'interno delle proprie squadre. Ehm. Però. Proprio Luis di più. Cioè. Mkhitaryan. Anche guardando i numeri. Cioè. Quei numeri non li fa chiunque. Li fa un campione. Lui ha giocato in grandi squadre. Adesso gioca alla Roma. Si sacrifica. Ehm. Mi piace tanto. Perché anche quando non segna. Si sacrifica dal 100%. Questi giocatori. Ne vorrei 100 miliardi alla Roma. E grazie a Dio ne abbiamo almeno uno. Perché non ne abbiamo mai avuti. Ok. Mkhitaryan. Un professionista. Un giocatore serio. Che si merita assolutamente questa prima posizione. Dopo tutti quei gol. Tutti quegli assist. A livello numerico. E' un giocatore totale. Poi si sacrifica. Cioè. Un giocatore così lo vorrebbero tutti. Bene. Questo video finisce qui. Mi raccomando lasciate like. Iscrivetevi al canale. E commentate qui sotto. Con la vostra opinione. Su questa mia classifica. E con la vostra classifica. E mi raccomando. Seguitemi su Instagram. Ertatino basso. Motociclista. Bella.